Fermi tutti, sorvegliate tutta l'uscita che nessuno si muova. Che cosa volete? Potò Lemocò. Mettetevi le manette. Scherzi di manette, scherzi di villanette. È finito il tempo degli scherzi, caro Lemocò. Avanti, andiamo. Ci vediamo fra cinque minuti. Ah, è quello che vedremo. Cammina. Ma come? Ve ne andate? Non aspettate Totò Lemocò? Purtroppo l'hanno arrestato. No, non riusciranno a portarlo fuori dalla casba. Arco, arco, arco. E dove ti intenziono di condurmi a quest'ora? In quest'ora, da quest'ora. E a quest'ora, in quest'ora, in quest'ora. Cammina, scherza anche, sai? Caro Lemocò, la tua ultima ora è suonata. E quest'ora di secondo, o meglio, di secondi. Io. Meno cinque. Meno quattro. Meno tre. Meno due. Meno uno. Abbiamo trasmesso il segnale orario delle ore undici. Sono già le undici. Non torna più. Voi non conoscete Totò Lemocò.